Da GiovaniSì vorrei maggiore facilità nell'attivazione dei tirocini per le piccole e medie imprese. Io per GiovaniSì vorrei dei bandi per lo sviluppo della cultura e del turismo sul mio territorio. Io vorrei che GiovaniSì improntasse maggiormente la formazione dei giovani in un'ottica europea, così da portare la Toscana fuori dai suoi confini geografici. Da GiovaniSì mi piacerebbe che le esperienze di servizio civile regionale e tirocini non rimanessero una parentesi nella vita dei ragazzi. Per GiovaniSì vorrei più opportunità per i tirocini all'estero. Potrebbero essere forniti dei finanziamenti non a bando ma con domande a sportello per incentivare la mobilità internazionale, un po' come viene fatto per la misura fare impresa. Da GiovaniSì nel mio futuro vorrei una scuola capace di poter dare i giusti mezzi tramite una buona informazione a tutti i ragazzi. Fare impresa oggi è sempre più difficile, per questo da GiovaniSì vorrei maggiori azioni concrete per i giovani professionisti. Da GiovaniSì vorrei delle opportunità di lavoro per noi giovani più concrete e facilmente accessibili sul nostro territorio. Per GiovaniSì vorrei più valore curriculare ai tirocini e servizio civile.